Siamo sempre nel Pollino, Bara California, e immaginiamo che appunto quelli dietro di me siano i Pinus Aristata. Come vedete hanno delle parti secche, assieme a delle parti vive. E questa è una caratteristica che hanno quasi tutti gli alberi. Coesiste la parte morta con la vita. È una cosa importantissima, sia per l'albero, sia per tutti gli abitanti dell'albero, insetti, funghi, microorganismi, ma anche per noi. La parte morta dell'albero è fonte di legname, è fonte di nuovo terreno, è fonte di vita per la pianta e per la foresta. Su questa parte morta, il Pinus Aristata costituisce piccoli lembi di nuovo tessuto, che portano la linfa fino sugli apici, dove le gemme crescono lentissime.